Enrico, quando si parla di crotone dobbiamo sempre mettere in risalto, e siamo alla fine del 2024, che per quanto riguarda la salute dei cittadini e soprattutto per quanto riguarda la bonifica, sono due temi sempre di grande attualità perché si è fatto poco e niente. Guarda, oggi possiamo dire con certezza che abbiamo un dato certificato alla data del 30-10-2024. Noi abbiamo fatto con la consigliere Giangotti una richiesta di cesta agli atti proprio per garantire e tutelare la salute dei cittadini tutti. In tutto questo dobbiamo aggiungere che ci sono delle aree inquinate, delle aree che hanno bisogno di essere messe in sicurezza. Ci vorrebbe anche l'impegno del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale. Guarda, più che altro del Consiglio Comunale, l'impegno per quanto mi riguarda io e della consigliere Giangotti c'è anche l'impegno di altri consiglieri comunali che naturalmente si interessano alle problematiche ambientali quello che preoccupa è che il commissario preposto o il sindaco che ha la massima carica istituzionale sul problema igienico-sanitario devono intraprendere iniziative a tutelare la sua paura. Per cui dico questo. Se su via fermi sono stati fatti dei lavori e non si sa chi è la ditta che è andata a fare i lavori o per conto di chi e per nome di chi, dove sono stati abbancati i materiali che sono stati rimossi. Se si parla nella relazione di Arpica del 3010-2024 che c'è uno strato ancora radioattivo di un metro e mezzo di profondità quindi la cosa preoccupa e preoccupa a tutti. Quello che veramente mi consente il termine increscioso è quella presa che hanno a prendere in giro i cittadini mettendo quella specie di rete davanti al parcheggio di Ex-Sasol dove c'è l'accesso di tutti. Noi quel giorno che abbiamo fatto le riprese e l'intervista con Rai 3 c'erano la gente che camminava all'interno del parcheggio nello sterrato senza misure di sicurezza e i presidi che devono essere adottati non li avevano. Come consigliere comunale insieme a Enrico Pedacci avete voluto avere dall'Arpica gli dati che riguardano Crotone. Dati molto preoccupanti. Sì, noi abbiamo fatto questa richiesta di accesso agli atti in questo mese proprio per capire lo stato di quel suolo dell'ex area Sasol e praticamente da quello che emerge, come avete potuto vedere, i dati sono molto preoccupanti. Purtroppo quell'area è un'area radioattiva e quello che ci preoccupa è che purtroppo i cittadini continuano ad accedere in quell'area perché non c'è un cartello che vieta l'ingresso. Come si è potuto vedere c'è soltanto una rete che delimita l'entrata, però comunque tutta l'area che è grande, 7 mila metri quadrati, è aperta e quindi è accessibile a tutti. Quindi Crotone deve essere per forza la città di persone malate con malattie gravi conseguenziali a questa mancata bonifica. Sì, purtroppo questa bonifica si aspetta da anni. Ero una bambina da quando sento parlare di questa bonifica e noi vogliamo che questa bonifica parti subito, debba partire subito perché Crotone aspetta questa bonifica da anni. Purtroppo ce lo dimostrano anche il tasso alto di malati oncologici che abbiamo anche nella nostra città e purtroppo è una realtà che Crotone vive e noi ci auguriamo che presto possa iniziare questa bonifica al di là delle diatribe che stiamo ascoltando in questi giorni tra il sindaco e il commissario generale Rigo. Però comunque la bonifica deve partire, il problema dei veleni non è di Crotone ma è di Eni. Le discariche all'estero ci sono e i veleni devono andare fuori dalla Calabria.